Ehi fratello benvenuti in un nuovo video di Fortnite Oggi fratello scopriremo il nuovo capitolo 4 Cavolo siamo già al capitolo 4 come crescono in fretta Ricordo ieri che facevamo le 50 vs 50 del capitolo 1 Però mi raccomando iscriviti e attiva la campagna inizia Altrimenti ti perderei tutti i prossimi video che arriveranno su questo capitolo E soprattutto lascia il like Ma ora andiamo in game Ok premiamo start Io ho sentito parlare benissimo di questo capitolo 4 Ho visto un sacco di clip molto fighe di questo capitolo 4 Non perdiamo tempo Battle Pass lo voglio acquistare Compriamo il Battle Pass grazie Vabbè a Battle Pass l'hanno rifatto normale ora Vi ricordo che potete inserire all'interno dello shop Il codice creatore porto Così come vedete a schermo mi raccomando fatelo Perché altrimenti siete brutti Wow Ma sta cosa ora? Ma che figata C'è Tilted Towers C'è Tilted Oh jeez mate quanta gente Io non l'ho vista Uh Assault Rifle hanno messo lo SCAR Lo SCAR veramente Questo invece col mirino Vabbè mirino Nel shield Probabilmente Uh Eh Excalibur Che è sta roba Wow Questo è quello È il martellone Sì C'è il martellone come Wow 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 Madonna sta scappando E quel martello ti dà una mobility che fa paura Morto? Già morto? Mamma mia Allora 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 Fatemi scendere un attimo Fusci la pompa Ce l'abbiamo Allora Ragazzi Fusci la pompa C'ha pure un bel ratio Ma Slurp juice Questa cosa fa? Mi ripristina lo SCUDO Come era La vecchia slurp juice Vediamo Ah no Questa slurp juice Mi dà Stamina infinita E forse mi ha ripreso 15 de scudo Interessante Sta la jump Vado su Ma perché ho fatto sta cosa Perché ho fatto sta cosa? Perché? Perché? Perché ho fatto sta cosa? Qualcuno me lo spiega? L'ho fatta e me ne sono pentito sul momento Quindi capito Sta proprio un'azione Ok E qua sta anche il martellone Così ci faccio pure un paio di tentativi Forse ti velogizza pure Sapete? Madonna Meno male che è scarso come lo schifo Vabbè No Brother Brother Come funzioni? Come funzioni? Come funzioni? Funzioni così Ok Ciao ragazzi Comunque sì Lo leverò Lo leverò anch'io Il cumulativo Da proprio fastidio Ero probabilmente morto Slippy shorts Ma sì Questa è la mappa del secondo Ragazzi Hanno rimesso Questa che era Quella con le slurp La mappa con le slurp Dai palese È lei Oh jeez mate Va bene Va bene No vabbè Naruto mi ha rubato la mitraglietta Questa cosa mi farà sempre molto ridere Naruto mi ha rubato la mitraglietta C'è un'arma da qualche parte? C'ho solo delle cavolo di cose per scappare ora Mi chiama e fa danno Sì Allora Scendiamo al volo Vediamo un po' Mi serve una porta Questa è una porta Mi serve un'arma Questa non è un'arma Questa è un'arma Un Due Dove sei? No 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 Sono morto Ti ho fatto un sacco di danni Morto Ok Curami 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 Via Via Questo martello è OP Tu dove eri? Mi ha fatto male Questo accumulativo sarebbe stato interessante per esempio Ok Grazie di avermi trucidato la vita Ok Le robe a schermo sono un poppy Sono decisamente un poppy Eh sì Sono molto piste robe a schermo ragazzi Ora Inseguo io te fratello Che dici? Ora inseguo io te Cristo santo Muori Infame Ehi fratello Possiamo vincere questo game C'è tutto lo spirito Cazzo per vincerlo Sì nel cespuglio Mi fa recuperare un botto di vita Ah Mi fa recuperare 150 Figo Fammi cambiare arma Fammi stare nel cespuglio Fammi stare nel cespuglio Che mi sto curando Che panico Quel tizio sta ancora là sopra Ok 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 Stanno saltando entrambi Oh mio dio che scena La rallentatore Tra l'altro l'ho vista Ah ma io sto laggando Wow Lol Avete visto il lag? Li ha fatti bloccare Scena da anime Peccato che Se non laggassero Forse sarebbe un po' meglio Va bene Ci può stare Ci può stare Meno merito Meno merito Non sono neanche arrabbiato Non sono neanche arrabbiato Laggavo Ci sono dei proiettili Su questo tetto Ma non vedo gente Quindi mi ci butto Sono di triangolare ragazzi 58 85 È morto Ultra 10 Secondo c'è il bonus Vediamo che mi esce No È venuto Ragazzi non c'è bisogno Di arrabbiarsi così tanto Con se stessi Cioè Basta che fate entrare me E vi risolvo io Devevo strefide Morto GG Dove sei? Quanta vita Ma è un bot Lasciatelo Lasciatelo Lasciamolo passare Ora mi conveniva Vabbè GG Via Fallo Fallo Vodo Ah un po' di laghino È lì È lì È lì È lì Tutti zitti Tutti zitti L'ho visto L'ho visto L'ho visto Ok Vai Lo facciamo Lo facciamo Lo facciamo Lo facciamo Lo facciamo Nel chill Fratello Prima vittoria reale Nel capitolo 4 Col martello Nel chill Fratello Ehi fratello Questo capitolo Mi spera veramente tanto Non vedo l'ora Di portarci nuovi video E nuovi contenuti Quindi mi raccomando Iscriviti al canale Attiva la campanellina Altrimenti te li perderai E soprattutto Lascia un like Noi intanto Se becchiamo alla prossima Ciao fratello